Siamo qui all'Università Federico II di Napoli, dove il Presidente del Napoli, Alenio De Laurentiis, alla fine della presentazione di un libro, ha lasciato alcune dichiarazioni alla stampa riguardanti la questione stadio e l'imminente match di campionato contro la Fiorentina. Andiamolo a sentire. Io non posso avere una dialettica con il Comune, lì esiste una legge, noi abbiamo fatto i passi che la legge ci obbligava a fare, e allora voglio dire, non mi sembra che questa città sia dalla parte del Napoli, perché tutto puoi dire, tutto puoi fare, puoi stare anche contro De Laurentiis, ma non puoi stare contro il Napoli, perché se tu stai contro il Napoli devi dire, a me del Napoli non mi interessa, io sono interista, del Napoli non mi interessa nulla, ma lo devi dire, lo deve dire tutto il Consiglio Comunale. Non vado io in Consiglio se mi manca il numero o se so che uno che mi crea la maggioranza quel giorno non verrà, che ci sei andato a fare, però io non è che mi inquieto, è un problema loro, io voglio vedere fino a che punto questa città mi seguirà e fino a che punto questa città non mi seguirà, parlo a livello istituzionale.